Ciao a tutti ragazzi, sono SpeedGamer E oggi siamo tornati sulla mappa parkour di Minecraft Minecraft World Parkour Allora, avremmo rimasti qua Mi sa che dobbiamo fare il livello 4 Se mi sbaglio 1, 2 No, il livello 1, 2, 3, 4, il livello 4, si Livello 4 Perché c'è un letto? E il checkpoint? Si ragazzi Però se cado così, sono difficile Qui non c'è niente, ok Ok, quindi mi sa che c'è checkpoint quello lì E a che serve? Scusate se sta qua Ma che boom Ah, forse No, niente Ragazzi, che ca... Ma che lagga? Non devi laggare Oh, aspettate, però ce l'ho riuscito No, niente, non ci riesco Oh, perché lagga? Allora Si, cosa pesco? Ah, mila Allora No, ma perché non ci riesco? Si Perché non devi laggare, però? E perché c'è il letto? Vabbè, io dormo Poi non lo so Ok Ok Vado Ok Ok Ma perché devo fare sti salti? Perché in teoria posso saltare di qua Ok Tutti i droghi Ok Ok Ok, ce l'ho fatto Ah Buon lavoro In the No Ma che Cof Minecraft Ah, la mia domanda Nella No di Minecraft Nella No di Minecraft Ah Forse il gioco finisce Nella No di Minecraft Boh E che ca Ah Ok Di qua Oddio Ma che Ma che è sta cosa? Oh No, me l'ho salvato Ma perché lì stanno i distributori? Perché c'è una porta di ferro? Boh, raga Ok Ma Ma che Ma qui posso entrare? Perché mi lancio una pozione di lentezza? Oddio, raga Ragazzi Oddio Se cado qua Ma voi mi drogate? Dove lo to- Vabbè, dai Non posso parare Togliare significa parare Quindi Allora Ok Da qui come faccio? Ma Mi spieghi come faccio? Oddio Io posso Spescare la leva Va bene Manteniamo la calma Niente Niente Ragazzi Niente Non c'è niente da fare No No, che cosa No, raga Mi sono fermato sul vetro Ora in teoria posso barrare Però non voglio barrare Quindi torniamo qua Ok Qua Qua dove ho Ma chi Come avevo fatto prima? Non avevo manco saltato Cioè forse avevo saltato Però Alalalala Alalalala Ma per No ma che Qui sto morendo Ragazzi Non posso più cadere Sì Last death Magari lo togliamo Sto last death Via Ah, però la roba mi rimane C'è il keep inventory Bravo Bravo Gioco Bravo Ma Basta Basta È impossibile Ragazzi Adesso Mi spiega adesso Come faccio io Ci sono caduto qua Come faccio Non ho senso Che non so Se posso rompere i blocchi Quindi In teoria posso rompere i blocchi E quindi Non c'è bisogno Che lo riparo Tanto non credo Che danneggia qualcosa Tipo circuiti Non credo Vai fuori Ok Perfetto Adesso devo cercare Ti farò di non morire Perché poi là Ci riesco Ad arrivare Però poi E' paura che Vado Ce l'ho riuscito Però mi ero fermato Devo premere il shift Per forza Siamo pazzi Ma siamo pazzi Ok Ok Sei pure qua Ma va Ma va Pa 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 Allora Sicuramente Sto video durerà Magari 5 minuti Ma nella vita reale Sta durando 3 ore e mezza Io dico Perché Ok E adesso Si Facciamo finta Che lo supero Tanto qua Dovevi soltanto saltare Su questi Così Ok Che sono ragazzi Ti mettevo 3 anni Ok Now in the yellow room Nella stanza gialla Ma sei drogato Che Oh Si Oh yeah Che cos'è Importance Ma 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 Grazie. Ma... Beh, ma per... Di sui... Cioè, ma perché mi prendono in giro? Qualsiasi mappa faccio. Ok. No! Allora, io con questo disco non ho capito esattamente cosa devo fare. Ma perché mi drogo io? Perché la sua democrazia... Ma perché? Allora, io faccio le mappe più difficili del ma... Perché mi è venuto in mente di fare una mappa? Perché è semplicemente scritto su internet. Minecraft mappe parkour 1.6.4. Proprio questa doveva uscire? Eh? Tutti drogati sono? Allora, ragazzi, se io non riesco... Se adesso voglio adesso stop il video... E ci vediamo nel prossimo video. Ok. Ciao a tutti, ragazzi. No. Allora. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.